Il presidente della regione, Francesco Acquaroli, non ha ancora formato la sua squadra di governo, ma intanto piazza il primo provvedimento. Mascherine obbligatorie anche all'aperto in tutto il territorio marchigiano, per tutta la giornata. Una decisione che di fatto allarga lo spettro temporale di una misura già prevista a Pesaro, ossia l'obbligo di mascherina in caso di assembramenti dopo le 18, che il sindaco Matteo Ricci aveva già introdotto nei mesi scorsi per contrastare la movida nei locali durante il fine settimana. Un provvedimento che trova d'accordo anche gli esercenti e il segretario della Confcommercio, Davide Ipaso. Il problema è che non ci auspicavamo minimamente di ritornare indietro ad aprile e maggio di quest'anno. Il problema più grosso è quello dei pubblici esercizi, che non sappiamo se chiuderanno le 22 alle 23. Chiudere un 22 alle 23 è un pubblico esercizio serale, vuol dire togliergli almeno il 40-50% dell'incasso. In questo momento, visto che devono arrivare oltre 9 milioni di cartelli esattoriali, noi speravamo sicuramente in un autunno diverso. I cittadini, a Pesaro, si stanno già abituando. Molti di loro da oggi hanno iniziato ad indossare la mascherina anche all'aperto e in linea di massima sono tutti d'accordo con l'ordinanza del Presidente Acquaroli. Sicuramente ci siamo abituati già da qualche mese, quindi credo che ormai sia diventata una normalità per tutti. Le persone comunque accettano di buon grado questa situazione, non ci sono grandissimi accaduti di sovversioni e quindi diciamo che ci siamo tutti un po' abituati, giustamente. Vedremo nei prossimi mesi cosa succederà, se servirà questa prevenzione primaria, speriamo di sì e quindi abbiamo tutti molta pazienza e cerchiamo di attenerci alle regole. Sicuramente è più difficile forse mantenere il distanziamento che la mascherina, perché poi devi far entrare poche persone alla volta, però sono tutti molto educati. Penso che il decreto sia giusto, sia la soluzione migliore diciamo in questo momento, ce l'avrei fatto sinceramente dall'inizio. Penso che sia il metodo migliore per contrastare il Covid. Nella giornata di ieri diciamo ci ha messo molto alla prova, perché comunque molte persone, qualcuno non lo sapeva. Chiaramente bisogna stare attenti soprattutto con i ragazzi, sempre darguirli, perché tanto sappiamo che il problema è quello, soprattutto con i più giovani. Però in linea di massima diciamo che è andato tutto nella media, insomma. C'è stata molta superficialità e quindi chiaramente quando i dati si rialzano il Presidente giustamente ha preso questo provvedimento. Penso che sia corretto, però non vedo molti che la fanno rispettare, non vedo in giro nessuno che controlli. Io ce l'ho e sono contento che si possa portare. Secondo me sì. Visto anche i casi in aumento? Visto i casi in aumento, visto che molti non la portano, insomma un po' di attenzione ci vuole. Io sono profondamente convinto che le mascherine vanno portate anche all'aperto. Considerando le statistiche che stanno aumentando sempre di più, bisogna cercare di prevenire anziché curare, perché memore di quello che è già capitato mesi scorsi, dobbiamo cercare di più che altro tamponare, evitare che questo contagio aumenti sempre di più. Grazie.